Oggi non dei giornalisti ucli italiani, ma un giornalista importante del New York Times ha telefonato all'università americana in cui lui dice in un documento per lo Stato consegnato nel 2013 alla Camera dei Deputati per essere nominato e non voglio farla lunga dice di aver perfezionato i suoi studi in un'università americana la quale ha risposto mai visto né conosciuto. Alla NYU, alla New York University. Aspetti, la cosa in un documento pubblico per la Camera dei Deputati ha detto che ha perfezionato e loro dicono forse può essere che abbia frequentato uno di quei corsi di uno o due giorni che non teniamo nei registri. Non solo, ma dopo che un giornalista americano, quindi un antipatico rompiscatole italiano, ha tirato fuori questo caso, sono andati a vedere le altre università e anche altre tre università. Una ha detto di non averlo mai visto né conosciuto, l'altra si è trincerata dietro un riservo, quella inglese, e ha detto che non si svolgono però normalmente corsi nei tempi da lui indicati. Una quarta, Vienna ha detto che casomai era sbagliato il nome che lui, beh quattro università in cui avrebbe perfezionato gli studi giuridici, capisco su un'iniziativa, ve lo dico per la terza volta nata da un giornalista americano, non è una cosa di poco momento, non è qualsiasi, non è un biglietto da visita per il prossimo capo del governo italiano, fermo restando che, ripeto, a ragione Travaglio lo esamineremo poi con ostinazione nei fatti, però questa è una cosa non qualsiasi, no? Ecco, Marco Travaglio, fermo restando che Giuseppe Conte viene confermato, lo hanno ripetuto anche in serata i Cinque Stelle, come candidato premier di Salvini e di Di Maio, fermo restando che Salvini in serata ha detto confermo il mio no a Di Maio premier, quindi questo problema resta e continua a restare, un grande, il maggior ostacolo, pensi che questi, diciamo, questi errori di curriculum elencati da Paolo Mieli siano dei peccati veniali o sono dei segnali d'allarme per qualcuno che vuole diventare presidente del consiglio di un paese di 62 milioni di abitanti come l'Italia? Sono dei segnali di allarme se non verranno chiariti, aspettiamo che Conte spieghi che cosa intendeva dire quando ha scritto non di essersi laureato alla New York University ma di avere perfezionato i suoi studi, se effettivamente ha fatto dei corsi di pochi giorni, come ricordava Paolo Mieli, che non vengono registrati o se invece ha inventato, millantato presenze in università dove non è mai stato. Questo lo deve assolutamente spiegare uno che aspira a fare il premier e quindi mi meraviglia che siano passate tante ore dalla notizia pubblicata da un prestigioso giornale internazionale e ancora non abbia chiarito. Dopodiché speriamo di non dover scoprire che ha anche copiato una laurea, una tesi di dottorato, altrimenti il Ministero della pubblica amministrazione non glielo leva nessuno e speriamo che non abbia inventato una laurea, altrimenti sarebbe Ministro della pubblica istruzione De Plano. Io sono stato severo con la Madia e con la Fedeli e quindi penso che dobbiamo essere severi anche con lui, anche se non risulta al momento che abbia millantato titoli di studio che non ha. Però le discrepanze tra il suo curriculum e le dichiarazioni di quegli Atenei vanno immediatamente spiegati e spero che lo faccia al più presto, altrimenti non sarebbe degno di ricoprire la carica di premier.